Il teresimo sarà Maiellaro a realizzare, dopo che Rossi in un primo tempo è uscito e riuscito a deviare il pallone, c'è poi un salvataggio sulla linea dopo il colpo di testa di Gerson, ma Maiellaro può segnare il gol del pareggio a Barillone, c'è poi un salvataggio sulla linea dopo il colpo di testa di Gerson.